ed ecco che ce n'è un altro pazzo scatenato dietro al primo e marco milanese neo guida alpina riduce dall'apertura di un nuova linea di ghiaccio sulla tofana insieme ad andrea gambero e a beppe valico direi che si muove molto bene molto ma molto bene marco e guardalo o com'è che la gente vede subito le cose che contano sti lombardi sti lombardi fa caldo fa caldo? è andata sulla caldaia la caldaia sta sbuffando questo è un'altra caldaia Lui ha fatto un cambio piede Dove c'è il diestro te? Grande, ottimo, ma che bella, vai estetico al massimo, bravo. Che belli, fa un saluto, fa un saluto a casa, grande Marco, tagliamo, un secondo. Grazie. Grazie.